Compagnia Enzo Cosini, penso che molti mi conoscano, sono 30 anni di lavoro, ritorniamo al Teatro Vascello da sempre, presentiamo Sopra di Mel di Luvio, e sono molto contento di essere tornato di nuovo al Teatro Vascello, che mi sento un po' in casa, in famiglia, adesso parliamo dello spettacolo. Lo spettacolo Sopra di Mel di Luvio, Biennale di Venezia dell'anno scorso, ci tengo a dire velocemente, spettacolo rapporto doloroso tra l'uomo e la natura, Paola Tanzi danzatrice, mia danza fantastica, Stefano Galanti video e Gianni Staropoli luci, un lavoro che sta andando benissimo, ha vinto il premio Danza e Danza, miglior spettacolo del 2014, prima romana, sono felice di presentarlo. Chi deve venire a vederlo, chi crede ancora che il teatro sia un'esperienza intensa, forte, e spero che lasci nella testa dello spettatore qualcosa da pensare anche nei giorni successivi allo spettacolo. Grazie a tutti.